Nella vostra mente, la voce interiore attraverso Roberta S., Santa Maria delle Mole, 9 dicembre 2008, a cura di VB, guide. Dunque, affidatevi alla vostra esistenza attuale, al vostro presente, a quello che siete ora, e iniziate a mettere da parte e ad osservare con un altro occhio quelli che considerate i vostri bisogni, le vostre esigenze. Accorgetevi che queste esigenze non sono poi così forti come ve le siete costruite nella vostra mente, e che la vostra prepotenza, la vostra volontà di prevaricare, a volte si nasconde dietro un finto buonismo o dietro delle false parole di positività. Cercate di essere in grado di donare, non per soddisfare il vostro ego, che vi fa sentire più buoni quando donate, perché non è quella la pace e l'armonia che vi diciamo noi, ma semplicemente la vostra forza interiore saprà restituirvi quell'energia a cui vi agganciate nel momento che donate, nel momento in cui la vostra esistenza si fa dono.